E' stata potenziata la rete ospedaliera Covid in Puglia. Saranno infatti 3062 i posti letto dedicati alla emergenza sanitaria. Lo ha annunciato il direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro. Ascoltiamo i dettagli nella scheda. Il numero totale dei posti letto dedicati ai pazienti Covid in Puglia è stato portato a 3062. Lo ha annunciato il direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro. Nella rete sono attualmente coinvolte 28 strutture ospedaliere pubbliche e 6 strutture private accreditate. Quest'incroimento è stato definito alla luce di uno scenario che prevede un fabbisogno di 2600 ricoveri necessari fino al prossimo 30 novembre. Il Dipartimento Promozione della Salute ha così definito con le direzioni strategiche delle ASL una rete ospedaliera prevalentemente pubblica. Chiedendo anche il coinvolgimento delle strutture private accreditate che ne hanno dichiarato la disponibilità. Infatti 2338 posti letto sono previsti nelle strutture pubbliche, 2014 per pazienti acuti e 324 di postacuzie. E 724 nelle strutture private accreditate, 649 per pazienti acuti e 75 per postacuti. I posti letto per acuti coinvolgono i reparti di terapia intensiva, malattie infettive, pneumologia e area medica. I posti letto per postacuti invece riguardano la lungodegenza sino alla dimissione del paziente. In particolare i posti letto di terapia intensiva covid sono 263, di cui 219 della rete pubblica e 44 del privato accreditato. Una quota rilevante dei posti letto di area medica è attrezzata per la terapia semi-intensiva. In questi giorni è partita l'attività finalizzata al recupero di ulteriori posti letto che ci porterà ad incrementare ancora di più la rete dei posti letto covid, sia per acuti che subacuti. È evidente che tutto dipenderà dall'indice di circolazione del virus. È stato fondamentale utilizzare il tempo a nostra disposizione perché abbiamo avuto l'esigenza di compatibilizzare la potenzialità di conferimento di posti letto dalla rete pubblica e la potenzialità di conferimento di posti letto dalla rete privata. Oggi abbiamo 2400 posti letto conferiti dalla rete pubblica e 700 posti letto conferiti dalla rete privata. È un'eccellente condizione nella quale possiamo dire che la rete pubblica e la rete privata hanno contribuito all'unisono a risolvere almeno momentaneamente un problema assai rilevante che è quello della carenza dei posti letto.